arte in olivo srl si occupa del di oggettistica oggi tutto il legno d'olivo in origine abbiamo iniziato a fare i pavimenti in legno perché 40 anni fa quando l'edilizia era al massimo poi mano a mano andato avanti l'edilizia è andata un po giù come vendita e cose e allora abbiamo trasformato avendo la materia prima abbiamo pensato di fare di usare il nostro legno d'olivo abbiamo iniziato con i taglieri poi oggetti per la cucina facendo la linea fashion occhiali orologi gravati papillon siamo presenti in tutti tutto il mondo diciamo dalla dall'australia all'america giappone tutti i paesi copriamo tutto